buona giornata buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 12 dicembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi oggi abbiamo una festa particolare un'altra festa della madonna dopo quella dell'immacolata che abbiamo festeggiato l'8 dicembre oggi si festeggia la beata vergine di guadalupe altra ricorrenza dunque dedicata alla madonna la vergine di guadalupe apparve nel 1531 a un indioz a steco joan diego chao clato a zinner e per provare la sua apparizione al vescovo che non ci credeva l'indioz era andato dal vescovo e ha detto guarda che mi ha fatto questo bene il vescovo non ci credeva allora lui è tornato l'indioz è tornato sul posto alla madonna le è apparsa un'altra volta anzi più volte poi in seguito e ha lasciato impressa la sua immagine nel mantello dell'indioz il quale poi l'ha presentato al vescovo e questa reliquia ancora oggi si espone nel grande santuario che è stato eletto sul posto delle apparizioni della madonna ed ecco dunque la beata vergine di guadalupe questa è l'immagine del suo volto le previsioni del tempo ci indicano oggi un tempo variabile con molte nubi al mattino schiarite più ampie tra pomeriggio e sera il clima è piuttosto mite 6 la minima 17 la massima i venti sulle coste espireranno con una tensione media da sud e sud ovest nell'interno ugualmente la stessa direzione mentre il mare leggermente mosso e dunque una temperatura piuttosto mite non fa ancora molto freddo e qui terminiamo le previsioni del tempo godiamoci questa giornata tanto e quanto e allora apriamo il giornale e vediamo il corriere adriatico sulla pagina di fano ecco l'articolo di apertura eccolo qua restyling di piazza andrea costa dopo le critiche la nuova versione è stato presentato ieri nella sala della giunta dal sindaco massimo seri e dall'assessore ai lavori pubblici barbara brunori e dall'architetto gianluca scarpa il nuovo progetto di restyling di piazza andrea costa ne era stata fatta una prima versione che poi è stata modificata in seguito agli incontri che l'amministrazione comunale ha svolto con gli ambulanti con i residenti con le associazioni di categoria ebbene sono state eliminate la ai vuole e tutta la piazza verrà pavimentata con i san pietrini le cui regolazioni geometriche verranno poi evidenziate con delle strisce luminose un po come è stato fatto nella zona del pincio un bellissimo progetto secondo i rendering che sono stati mostrati uno di questi figura nelle spalle dei tre relatori che hanno relazionato appunto alla conferenza stampa l'assessore l'assessore brunori il sindaco massimo seri e l'architetto scarpa è un bellissimo bellissimo progetto che valorizza la piazza valorizza la sua funzione di mercato ci sarà dunque una nuova illuminazione verranno aggiunte anche altre alberature continueranno almeno per il momento i parcheggi insomma abbiamo una scenografia che rende ancora più bella la città e si intona con quello che è stato realizzato al pincio e l'inizio dei lavori poi daranno un po prenderanno il testimone dalla fine dei lavori che saranno realizzati in piazza marcolini quindi si sta configurando il progetto della città bella così prefigurato dal sindaco massimo seri illustrato il progetto ritoccato per le stanze presentate da residenti associazioni e ambulanti vediamo ora invece un altro progetto che al momento però è bloccato quello del sottopasso di viale cairoli c'è stata una indicazione che ha evidenziato il segretario dell'udc stefano pollegioni il quale ha detto una volta che è stato abbattuto il casellino lungo via nazario sauro il casellino nei pressi del ponte ferroviario ebbene abbiamo una buona alternativa per arrivare al lido rispetto al sottopasso di viale cairoli quindi quello lasciatolo così com'è e invece rendete possibile il passaggio di biciclette di pedoni di carrozzine lungo la passeggiata romantica verso il faro una soluzione pare che piaccia al comitato di viale cairoli che ovviamente si batte perché non vengono abbattuti gli alberi in viale cairoli e soprattutto non venga realizzato quel grosso impatto ambientale che ha prefigurato il progetto delle ferrovie dello stato un articolo di cronaca a fondo pagina del corriere adriatico ci mostra un processo che si sta compiendo davanti al tribunale di pesaro si tratta di un 48enne in lite con dei vicini di casa lui gestiva degli animali cittadini i vicini avevano protestato è nata una lite e beh insomma poi le parole sono diventate grosse e anche gli atti infatti mostra il sedere e bestemmia e va a processo un fanese un fanese di 48 anni accusato di molestie nei confronti di due vicini di casa c'è stato il pubblico ministero che ha chiesto due mesi di condanna la sentenza ci sarà il 5 febbraio prossimo vediamo ancora una notizia che riguarda Fano sulla pagina della Valmetauro perché abbiamo alla ribalta ancora le terme di Carignano turismo riaprite le terme vedrete che grande risorsa lo afferma la presidente del comitato terme di Carignano Beatrice Morbidoni che torna alla carica per sollecitare il privato a realizzare quell'investimento che era stato promesso nell'autunno dell'anno scorso addirittura rispetto a quella presentazione fino ad oggi non si è saputo più niente torna alla carica il comitato di Carignano il comparto procede a gonfie vele insomma bisogna vedere mi sembra che là è tutto fermo comunque in maniera in maniera ideale le cose le prospettive ci sono ci sono perché un impianto termale può incentivare il turismo a parte c'è anche il problema dell'insufficienza delle strutture alberghiere per far fronte poi ad un incremento considerevole del turismo fanese in quanto d'inverno sono poche le strutture che hanno in attività un impianto di riscaldamento quindi è una problematica che si insomma alle agli altri problemi e al di là di un piano di riqualificazione che non sembra fare concreti passi avanti l'altro punto dolente dice il giornale resta proprio l'offerta ricettiva attuale ritenuta inadeguata scandita da un numero sempre più ridotto di strutture per la grandissima parte poi datate insomma non sono strutture moderne a parte qualche eccezione san lorenzo e caglia arrivano due nuovi comandanti cambiano le sedi per ciabocchi e ciardo avvicendamenti della stazione della compagnia carabinieri di fano è arrivato il nuovo comandante della stazione carabinieri di cagli si tratta del maresciallo ordinario diego ciardo 27 anni 27 anni che nonostante la giovane età già hanno avere importanti esperienze nella linea territoriale nella stazione dei carabinieri delle province di ferrara e di fermo a lui dunque una buona esperienza a lui ovviamente gli auguri di proficuo lavoro a cagli uno dei paesi più importanti e popolosi dell'entroterra ed ora passiamo nell'entroterra stiamo anzi nell'entroterra e andiamo a frontone a frontone sorgono dubbi sul decreto legna quel decreto che consente ai frontalieri di raccogliere la legna che cade negli argini dei torrenti dei fossi dei fiumi per evitare che questi poi finiscono in acqua e si addensino addosso ai piloni dei ponti come si vede in questa fotografia costituendo una diga una diga che può originare le piene e quindi le piene poi possono debordare ai lati dei corsi d'acqua il bosco come risorsa al centro di un circolo virtuoso che comprende manutenzione occupazioni bioenergia e reddito questo è il senso del progetto ripartiamo dal Catria presentato nelle scorse settimane nella sede dell'azienda speciale consorziale del Catria e andiamo a Senigallia a Senigallia vediamo due grandi chef che fanno un po' anche da promozione alla enogastronomia delle marche sono Uliassi e Cedroni Cedroni e Uliassi star dei 50 top Italy sono stati inseriti tra i 50 chef migliori d'Italia nella guida che appunto mostra le delizie le delizie stellate gli chef senigallesi protagonisti nella guida 2024 pranzi e cene con menu e prezzi per le feste e poi c'è il maestro Brunelli che insomma evidenzia panettoni creme in diverse versioni tavolette di cioccolato insomma veramente c'è di che sbizzarrirci e avere l'acqualina in bocca e allora noi per non cadere in tentazione sfogliamo ancora il giornale e siamo sulla pagina di Pesaro dove l'articolo di apertura è dedicato al piano delle antenne eccolo qua piano antenne approvato l'acci ai gestori l'ultima parola sarà delle comune e speriamo veramente che il comune abbia la forza di poter decidere dove collocare le antenne perché fino adesso insomma secondo la normativa corrente questo non è stato sempre possibile piano antenne approvato l'acci ai gestori l'ultima parola sarà del comune non mancano però i mal di pancia in maggioranza ebbene c'è stato l'approvazione il via libera in consiglio comunale del regolamento che è stato e mandato ma ci sono stati anche momenti di tensione momenti in cui qualcuno è uscito dall'aula si tratta dell'aula si tratta del consigliere Davide Manenti della lista civica Il Faro che ha lasciato appunto l'assemblea saranno 35 le nuove localizzazioni delle antenne telefoniche ma il piano prevede anche fondi per un monitoraggio puntuale sulle emissioni di radiazioni elettromagnetiche anche perché ad oggi è stata fatta una previsione di emissioni per localizzare i nuovi punti di installazione che deve essere continuamente aggiornata e qui l'ARPAM dovrebbe fare il suo lavoro ma sappiamo come l'ARPAM difetti di personale e quindi ha un organico molto ridotto e spesso non riesce a far fronte alle richieste che vengono fatte vediamo anche altri titoli e vediamo come è stato acciuffato un trasfuga si tratta di Federico Marcelli che era evaso aveva il braccialetto, era agli arresti domiciliari aveva il braccialetto, se l'è tolto ed è fuggito e da tempo veniva ricercato è stato trovato in Umbria stupri finita la latitanza di Marcelli catturato a Gubbio l'ex ristoratore l'uomo condannato per doppia violenza sessuale era evaso dai domiciliari il 15 novembre quindi è durato circa un mese, poco meno di un mese la fuga di questo personaggio Federico Marcelli, 49 anni, è accusato di aver stuprato due sue ex ed evaso dagli arresti domiciliari dopo una doppia condanna accumulativa per 10 anni e 4 mesi alla fine lo hanno catturato in Umbria e dovrà scontare la pena con una maggiorazione per l'evasione un nuovo supermercato a Celletta si restringe via Bonini rischio caos il consigliere di Fratelli d'Italia, Malandrino chiede al Comune di intervenire sulla viabilità perché poi quando si insediano i supermercati succede anche un effetto in merito alla viabilità vediamo quello che si fa anche sul fronte dell'autismo è nata la rete Sofare, una rete che può aiutare soprattutto le famiglie che su cui incombe molto del peso, quasi tutto dobbiamo dire il peso dell'assistenza, sostegno per avere un futuro nel progetto dell'associazione anche opportunità occupazionali per i giovani Silvia Vichi del Bar Romeo ha parlato dei risultati dell'alternanza scuola-lavoro quindi ci si dà da fare anche su questo fronte la stazione di posta per i senza tetto parlare delle famiglie in difficoltà in questo periodo di Natale è un argomento che deve toccare il cuore un po' di tutti recuperiamo un vecchio casolare e l'assessore alla solidarietà Luca Pandolfi spiega come funzionerà questo nuovo centro non solo letti ma anche informazioni sul lavoro e assistenza quindi non solo un ricovero immediato per risolvere il problema del giorno, di tutti i giorni ma anche qualche prospettiva per il futuro insomma cercare un lavoro per dare la possibilità dell'autonomia, dell'autoassistenza tiriamo ancora la pagina troviamo Urbino che festeggia la sua qualifica di città patrimonio dell'UNESCO la celebrazione dei 25 anni ci saranno due giornate di incontri e di tavole rotonde l'obiettivo è quello di valorizzare questo aspetto internazionale della città un aspetto storico, un aspetto ambientale un aspetto di grande suggestione due giornate che celebrano il 25 anniversario della iscrizione nella lista del patrimonio UNESCO di Urbino l'appuntamento è per giovedì e venerdì al Teatro Sanzio che riaprirà per l'occasione dopo un intervento di ristrutturazione questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico ed ora apriamo il resto del Carlino vediamo l'articolo di apertura con questo testone qui questo volto questa scultura questa scultura che evidenzia Mussolini Benito Mussolini cittadinanza Mussolini c'è un atto per revocarla la consigliera comunale Luzzi di Incomune presenta un ordine del giorno l'onorificenza contraddice i nostri valori e il riconoscimento a Liliana Segre c'è una contraddizione ovviamente le cose si sono evolute nel corso della storia negli anni 30 Mussolini è stato nominato cittadino onorario della città di Fano vi ricordate ha dato anche in omaggio alla città la statua di Cesare Augusto che si trova al Pincio poi ovviamente gli avvenimenti hanno dato una svolta a questa considerazione e oggi ovviamente questa cittadinanza un po' stona e quindi si cerca di revocarla così come ha proposto Dino Zachilli che ha lanciato l'idea che ha scoperto poi l'esistenza di questa cittadinanza onoraria che quasi tutti avevano dimenticato fu una direttiva del partito fascista del tutto ingiustificata dice Renzo Rovinelli storico ma il delitto Matteotti fu di stampo affaristico più che politico è l'ex assessore alla cultura Davide Rossi che interviene in questo senso dicendo che l'esigenza di rievocare dopo cento anni la cittadinanza fanese onoraria Mussolini doveva essere davvero pressante se praticamente nessuno compresi gli autorevoli storici locali era a conoscenza del vicenda quindi insomma c'è un po' di ironia nelle parole di Davide Rossi auguri auguri ad una centenaria si tratta di Fausta Cianca Merla che ha compiuto cent'anni una ostetrica che ha dato la luce che ha aiutato a dare la luce a tanti tanti bambini fanesi ma non solo fanesi anche dell'entroterra perché nei tempi eroici quando le ostetriche erano veramente delle persone che si dedicavano vita e morte proprio ai parti delle donne che partorivano in casa ora ovviamente si partorisce in ospedale e non che oggi le ostetriche non siano importanti ebbene si andava anche in montagna in collina da tutte le parti per aiutare le donne che dovevano dare alla luce un bambino auguri Fausta l'austetrica dei record ha fatto nascere tanti fanesi importanti e ieri ha tagliato un alto traguardo i cento anni festeggiati anche dal sindaco Massimo Seri che le ha consegnato una pergamena con gli auguri della città duemila morette chiamano il bis successo per l'iniziativa attuata dalla Confesercenti al Pincio di Fano un successo che verrà replicato anche domenica prossima quando proprio nei giardini del Pincio verranno illustrati i pregi della moretta mettendo a confronto un barista e un pasticcere perché la moretta ha una moltiplicità di usi può essere usata al bar con il caffè ma può essere usata anche nei dolci per dare il sapore a questo Natale vediamo ancora altri articoli pubblicati dal resto del Carlino Piazza Costa lavori da gennaio a giugno inizieranno l'8 gennaio i lavori per la restyling di Piazza Andrea Costa e dovrebbero terminare nel mese di giugno prossimo stabilito il cronoprogramma degli interventi si procederà a blocchi iniziando dal lato della Pinacoteca di San Domenico e il resto del Carlino mette a confronto due fotografie quella storica di Piazza Andrea Costa di inizio 900 probabilmente anche fine 800 comunque vediamo che la piazza era già abbiamo già la pescheria quindi la chiesa di San Daniele era già stata abbattuta abbiamo già la piazza adibita a mercato vediamo qui dei cocci dei tegami in ceramica che venivano stesi per terra e venivano venduti e qua invece vediamo come sarà la nuova piazza Andrea Costa con il selciato in San Pietrini e l'illuminazione radente che darà un suggestivo aspetto anche agli edifici che circondano la piazza come la chiesa di San Domenico come Palazzo della Fondazione la pescheria Palazzo Boccacci e via dicendo giriamo ancora la pagina rientrano e mettono in fuga i ladri ma loro ci riprovano da un'altra parte nella Val Cesano ancora furti scia di tentati furti in modo particolare tra Orciano Calcinelli e Marotta sono avvenuti durante il ponte della Immacolata probabilmente la stessa banda che fallisce da una parte ritenta dall'altra insomma ci prova in tutti i sensi riapre il Teatro della Concordia domenica il concerto inaugurale a San Costanzo un appuntamento importante domenica prossima per gli amanti della cultura dopo circa sette mesi di chiusura per rendere possibile i lavori che sono stati fatti per così per l'efficientamento energetico il Teatro della Concordia ospiterà una bella rappresentazione a Urbino invece si festeggia il quarto di secolo dell'UNESCO lo abbiamo già detto due giorni con eventi tavole rotonde e un concerto il sindaco Gambini dice pensiamo alla candidatura capitale europea della cultura beh Urbino ha i suoi numeri perché poi la patria di Raffaello con il suo grande meraviglioso palazzo ducale l'imprimatur di Federico da Montefeltro insomma hanno un certo ascendente non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale e Urbino ha tutti i numeri per tentare questa nuova carta di promozione e già il fatto di essere tra coloro che si candidano costituisce di per sé una bella promozione vediamo ancora se ci sono altre notizie importanti sì il nostro dissesto idrogeologico non si rassolve raccogliendo legna si tratta dello stesso articolo di cui abbiamo parlato prima per quanto riguarda frontone la lupus infabula replica l'operazione presentata per quanto riguarda il bosco tema di oggetto tema e oggetto di un incontro per il catria ripartiamo dal catria e fa anche due conti e tutto quanto è avvenuto a frontone e poi vediamo che c'è una soluzione per busetto non fu lui a tagliare una quercia l'agricoltore era stato multato dall'unione montana per il giudice però ha ragione lui era in ospedale quindi è stata addirittura sbagliata la figura vediamo anche l'articolo che riguarda che riguarda pesaro sul resto del carlino vediamo l'articolo che riguarda le antenne eccolo qua antenne polemiche approvato il regolamento manenti io non ci sto e come abbiamo visto è uscito dall'auta passa comunque il regolamento con le modifiche è stato presentato dall'assessore a conti l'ex presidente del parco di San Bartolo esce in contrasto con la sua maggioranza e con questo terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 con il Tg di Fano TV occhio alla notizia e per domani con la consueta rassegna stampa delle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci per l'ascolto